Siamo con il capitano Claudia Pauseri che si occupa della prossimità e anche di biciclette. Bellezza in bicicletta però in nome della legalità. Sì, legalità. Noi abbiamo la possibilità con le biciclette di essere molto più vicine al cittadino, di fare un servizio più capillare, proprio nel centro storico dove anche le auto non possono entrare, nei parchi, nella pista ciclabile. Quindi è un servizio oltremodo piacevole, ci fa fare un po' di esercizio fisico, perché no, non è disdicevole. È molto simpatico, la gente apprezza molto, ormai sono più di tre anni che facciamo questo tipo di servizio e è molto, molto apprezzato dai cittadini. Ci riconoscono per la strada, insomma, sono contenti perché sanno che abbiamo la possibilità di essere presenti in qualsiasi momento con pochissimo tempo. E dipaniamo anche un piccolo mistero, una parola non per tutti chiara, prossimità. Che cosa intendiamo con questo tuo ambito operativo? Prossimità è proprio nella prossimità dei cittadini, quindi curiamo molto il centro storico e soprattutto ci fermiamo a parlare con le persone, raccogliamo le loro problematiche, qualche volta anche le loro confidenze, perché no? Quindi significa proprio vicinanza con il cittadino. Grazie a Capitano Claudia Rosselli, grazie. Grazie a voi. Grazie a tutti.